Se c'è chi è scontento per la chiusura del proprio ospedale come i cittadini di Agropoli, c'è chi, come i fruitori del nosocomio di Polla, non fa certi salti di gioia per il mantenimento di una situazione che già non era delle migliori e che ora, con il riordino deciso dal direttore generale dell'asola salernitana, rischia di vedere duplicate le criticità. I rappresentanti sindacali della CGL Funzione Pubblica, Vita Antonio Capozzi, Luigi Pistone e Gino Alessandro, hanno inviato ieri una lettera al presidente della regione Campania Caldoro e al manager dell'asola squillante, in cui lamentano lo stato a cui è stato abbandonato Luigi Curto. Nello specifico si fa riferimento ad una situazione deprecabile sotto il profilo igienico-sanitario. Secondo una delibera dello stesso direttore generale, infatti, erano previsti lavori di adeguamento strutturali e funzionali per venire incontro all'avvenuto accorpamento delle unità operative trasferite dalla struttura sanitaria di Sant'Arsegno a quella di Polla. Ma al momento, nonostante vari solleciti dei sindacati e rassicurazioni dello stesso squillante, nulla è stato fatto. Né nulla è cambiato, lamentano gli iscriventi, circa la dimensione funzionale ed organizzativa, che avrebbe dovuto avere veste nuova con l'attivazione di uno specifico programma di qualificazione e di adeguamento. E questo si legge nella missiva, mentre a favore di altre strutture sanitarie dell'ASL vengono deliberati, a continuo oggetto di fiumi d'inchiostro, lavori di ristrutturazione, acquisti di apparecchiature, rifornimento combustibile, e mentre si continuano a spendere 91 milioni di euro all'anno per la migrazione sanitaria dei cittadini salernitani, pronti a tutto pur di non pagare il ticket. La CGL Funzione Pubblica critica dunque il modello campania tanto decantato dalla giunta regionale nella realtà inadeguato e chiede nella lettera che arrivino risposte concrete e immediate dalla regione e dal manager.